tutti grazie Grazie. Grazie. Non so, non ho capito se debba avere uno start o no, ma cominciamo. Introdurrò un attimo in inglese perché il nostro ospite naturalmente è in inglese speaking, poi però man mano passeremo all'italiano e staremo sull'italiano. Chi vuole parlare in inglese, parla in inglese. So, we start this session, and indeed I've lost my program at any rate. You know the title, the idea is to talk about different aspects of innovation and future trends in national accounts, measurement problems mainly. So, issues that serve new development, thank you, somebody give a program to me. New developments that are useful to tackle the change in society and economy that we have to face in our effort to measure the economy via the national accounts. We have five speech, the first one from Nadim Ahmad, that is a fellow from OECD, is about the digital world, the digitalized activities that indeed are one of the main issues that we have to face today. The novelties, among the novelties in the novelties in the novelties in the economy that are more difficult to be measured. Then we have something about environment accounts. This is a new dimension of measuring the environment using national accounts or satellite accounts that are satellite of national accounts. Then there is a speech about globalization, in particular about the measurement of multinational activities in national accounts. The speech will be made by Nadia Divero and not by Alessandra Agostinelli that has had a problem and cannot be there, but at any rate, the presentation was joined between Alessandra and Nadia. So, Nadia is going to give the presentation. Then there is a presentation from Cecilia Ionalasinio about new ideas, new possibilities in measuring intangibles, in particular investment in intangibles behind the current boundaries of investment. And finally, we have a quite specific presentation about one aspect of the illegal economy and one specific technique to gather information on the illegal economy that is another one of the many problems that national accounts face. So, let's start with Nadia Divero, he told me just a few minutes ago, he is responsible for something about trade competitiveness, if I'm not wrong. He had the OECD, but in particular in recent years, he has been one of the, I would say, more important authors in writing about the impact of digitalization on economic accounts in general, in measuring the economy. So, I hope that can be a very useful overview for everybody about digitalization. And, okay, we'll try to stick closely to our timetable, so no more than 20 minutes for each speech. Please. Thank you very much, Gian Paolo, and thank you, Ose, for the invitation and the opportunity to speak to you. I'm not going to talk about the broad area of work that the OECD is doing on digital economy, that there are lots of things going on at the OECD, looking at the digital economy, particularly in terms of the policy aspects. I'm going to have a very narrow focus today for this audience on the work that we're doing, looking about the impact of digitalization on how we measure GDP. And Gian Paolo has given this very nice title, Mythological Challenges and Pitfalls. But I'll walk you through the work that we've been doing at the OECD, and indeed the motivation for the work that we've been doing, and where we're at at the moment. It's a journey. We're not all the way there yet, but we feel that we're making progress. I'm mindful of this clock over here, so I shall try to whiz through. Where do I point this? Somebody made me. You should pause the clock. Done? Okay, great. So, just by way of background, to make sure we're all on the same page, what we're experiencing is an explosion in digital transformation, and there are lots of obvious places where we see digital transformation. On the right, I have a relatively old chart, and the chart will probably show an even more, if you want, pertinent example now. But it shows you the market valuation of Airbnb between 2014 and 2015, and Airbnb in 2015 had a market valuation basically almost as large as Hilton. Now, this has all been happening. This digital transformation has been happening. But at the same time, as we've seen digital transformation, we've been seeing a decline pretty much globally, and certainly across OECD countries, in productivity, and in particular, total factor productivity. And you've got a chart here for Italy showing this slowdown in productivity growth over, well, decades now. And we haven't seen any pickup from digital transformation. That was the expectation, the a priori. And so, of course, there's this view that something is missing. Why do we have, for example, this slowdown in productivity when we would have expected digital transformation to provide this boost? Now, there are lots of different reasons out there, and I've given you my perhaps imperfect Italian translation of scratching of heads, and I'm not sure if it works particularly well in Italian, but that's how to see the tester. We've all been scratching our heads trying to work out why we're not seeing a boost from digitalization to our productivity. Now, some have argued that it's because we're just running out of a shortage of ideas. I mean, digitization in and of itself is not perhaps something that was going to provide a massive boost. The OECD itself has done a lot of work looking at other aspects of the productivity slowdown and concluded that one aspect may very well be that we're not seeing this transfer, if you want, of knowledge from high-performing productivity firms to slower productivity performing firms, and what we call the breakdown of the diffusion machine. There are many other ideas, the business cycle effects, and indeed, more recently, there's been a lot of work looking at the idea that it may very well be that the transformation itself doesn't reap dividends automatically. There's a lag defect, and so the changes that we're seeing today will not result in productivity growth perhaps for a number of years. Much the same way that it happened for electricity. Electricity happened, and we didn't see a productivity boost there and then. It happened over time. Now, what I'm going to talk about today is perhaps the one that's affected all of us in the room. I imagine it's certainly at the OECD is the fingers are being pointed at mismeasurement. So the arguments are that it's only because we're not measuring GDP properly that we're seeing this slowdown in productivity growth. So digitalization has transformed the way that we interact with society and the way that production takes place, but it's also transformed our inability to measure the phenomena. And on the right-hand side, you'll see a list of names and publications that have added voice or added fuel to this idea of a mismeasurement hypothesis. I won't go through them all, but they are loud, and they continue. So that's all happened despite the fact that there have been some responses, but they've not been very loud. And if you look at the chart on the left-hand side, this reflects some work done by the BEA, which tried to evaluate some of the issues related to digitalization, and concluded that actually, even if we were to measure digitalization in the way that many of the commentators are saying that we're not, it would actually have the obverse outcome. Productivity growth would slow even more compared to the prior period. And their conclusion was that we had this boost to productivity in the late 1990s, early 2000s, and now we're sort of returning to normal. That was their conclusion. Now, on top of all of that, there have been some other initiatives, and the UK in particular had a widespread review of economic statistics and made a number of recommendations within that review, some pointing and, indeed, reinforcing the idea that there was a mismeasurement problem and more needed to be done. Now, we concluded that perhaps part of the reason for this noise around mismeasurement reflects our inability to really fully understand what it is we're talking about and what it is we're supposed to be measuring. I mean, there are lots of different definitions, when we think about it, of digitization. Some people refer to the gig economy, some people refer to the sharing economy, some people refer to transactions, for example, like the Uberized economy. So, the starting point for the discussion is that we're not really starting on the same page, and there's big differences in terms of how we understand digitization. The other aspect of it is we don't know who the players are. I mean, which aspects are we supposed to be focused on, and how do they manifest themselves, what types of actors are involved, where does it take place, and how big it is. Now, this is all adding to this noise around digitization, and I've given you this example, the little pictures here, just to show you where we really are. I mean, those of you who are familiar with Winnie the Pooh know that in Winnie the Pooh, they were trying to describe the heffa-lump, which is the thing that you see on the right-hand side, and nobody really knew what it was, you know. I've seen some of the ears, I've seen some of the nose, and they tried to describe this animal that was imperfect, and I think that's where we are at the moment, and that's where we started our journey in thinking about digitization and how we need to reflect its measurement in GDP. But since then, we've made a strong, concerted effort to try to respond to the criticisms, and in 2016, we produced a conceptual paper looking at the challenges of digitization, trying to respond to some of the arguments about the production boundary, and I'll say more about that in the presentation. And we've also now created an expert group that's looking at these things in much more detail, and we'll have a first report out towards the end of this year. What I will also talk about in this presentation is some of the work that we've done just to say, okay, well, let's assume that everybody's right. What will be the impact of this mismeasurement on GDP estimates? Just to get some type of handle and some type of size on whether or not digitization can explain a productivity slowdown. And there's lots of other activities that are taking place, so I won't go through them all. So I'm going to basically talk about the work that we've been doing, breaking it down into five areas that can be categorized as our, if you want, understanding of digitization and where it appears within the production boundary. I won't go through this list because I will talk about them as we run through them. Now, perhaps the most obvious starting point is to think about how do we measure digital intermediaries? This is often the thing that comes up, you know, Airbnb, Uber, you must be measuring it incorrectly. So we tried to think about the different types of services that these intermediaries are basically intermediating because they're not providing the services in and of themselves. They're providing a platform for the exchange of services. And if you think about it from a conceptual perspective, a national accounts perspective, there's nothing new here. There's nothing new in terms of the underlying activity, and there's nothing new about the intermediation service. It's just basically providing a mechanism for buyers and producers to transact. That's all that's happening. So conceptually, we don't feel that there is something that's not in the production boundary that should be there. Now, moreover, when we think about some of these activities and we think about the potential size of mismeasurement, we also have to recognize that large parts of what we're not measuring in theory are being measured. It's just that they're not visible. And this is a point I will come back to again and again during the presentation. It's the lack of visibility that's fueling the idea that we're not measuring something. So if you think about dwelling services in Airbnb, we're finding that there are homeowners who are now making their homes available for rentals. And there's an argument that it's not being picked up in the system. Now, that may be the case. In many countries now, you see administrative data being used to try to measure that. But in those countries where it isn't happening, we have to remember that in the accounting framework, we have these estimates of imputed rent. So the imputed rent part is already capturing the services that we provide ourselves as owners of our homes. Now, if we were going to measure the Airbnb part, we'd have to remove something from the imputed rent calculations and add it to the Airbnb part. So, of course, that's not the entirety of it because when you provide an Airbnb service, you're providing something extra above and beyond just the imputed rent part. But it's just to show that even if there is a mismeasurement problem, it won't be significant because a large part of it is already being collected using our imputations. Now, another argument holds that for Uber, we're also perhaps missing something. But again, this is not different to the way that we already measure informal activities. Now, one could argue that perhaps we need to review the estimates that we have for informal activities and maybe review the sources that we use, for example, the Labour Force Survey, to make sure that they capture all of these activities. But conceptually and in terms of current sizes, we don't feel that they are significant. Distribution services via eBay, you know, our ability to sell goods on eBay is also something that is in scope for discussion. People argue that if you are selling these goods on eBay today, you're providing, if you want, some type of margin service that isn't being picked up in the system. But we don't feel that these are of significant order of magnitude, certainly to explain the productivity slowdown. So yes, there may be work that needs to be done to ensure that we can capture these in the system, but to what extent they're going to have a significant impact on GDP, we're not convinced that it's going to be very large. Now, one sort of spin-off in thinking about Uber is the idea that there is this dual use of vehicles now, an increasing dual use of vehicles, which means that, in theory, the investment figures that we see across countries should be slightly higher because you buy a car, you use it for your own consumption, but you also use it to provide services. There's an argument that maybe investment needs to be higher, but of course this has no impact on GDP because it's just reducing consumption, household consumption, and increasing investment. It may have an impact, of course, on multi-factor productivity, but as you can see, when we've run this through the system using estimates that we've generated by collecting information on the number of Uber drivers and the number of cars they purchase, the impact on multi-factor productivity is almost zero. And you see here the figures that I have just in terms of the impact on gross fixed capital formation, 0.01%, so the impact on multi-factor productivity is basically nothing. So we don't feel that these are arguments that can be used to explain the productivity slowdown. Another area where there's been a lot of discussion is what we refer to as participative and displacing production. We as consumers are now much more engaged in the production process than we were before. So when we think about going to a supermarket today, quite often we're the ones that do the scanning. We're the ones that pack our own bags. When we book flights and hotels, we're the ones that do the searching. So there's this argument that, well, if we're doing all of this displacing work and we're participating in production, are we missing something in GDP? Now, the convention is no, because when we do things at home for ourselves, by convention, there's a non-monetary transaction, and we say, well, look, there's no third-party transactors, so it's not part of GDP. So by convention, the argument is no. That's not to say that there's nothing to worry about, because there is, I mean, something to worry about in terms of the way that we think about the services that we're now receiving, that we're now displacing services in a different way. And so there's an argument that perhaps the price measures that we use may need to be reviewed to look at our engagement in the production process. We don't, the current price GDP isn't affected by this, by convention, but there may be an impact on volume estimates, and we're going to have to look at this. We've done some work looking at the overall impact of mismeasurement on the consumer price index, and we don't feel this is, again, going to explain the productivity slowdown. This is still relatively small scale, despite the fact that we have quite a lot of participative engagement in the production process. Now, a real, if you want, hot topic is this free services. And so we're all now beneficiaries of basically internet search engines, free YouTube videos, and all sorts of other things that have been, if you want, enhanced by digitization. So there's an argument that we as consumers are receiving something that isn't in the production boundary. We're not seeing this value coming through, and maybe that's where we're seeing a slowdown in productivity, because we're not capturing these impacts. Now, before we get into the detail here, I mean, this is an argument really about differences between GDP and consumer surplus. and one of the things that we have to remember, because it's often forgotten, is that despite the fact that digital transformation is new, it, to some extent, reflects things that are not new. So we've always been receiving free services. When we sit down and watch TV, we receive a free media service, using conventional, basically, terrestrial air, basically the terrestrial airwaves. In the past, we've always received free newspapers, and there were no arguments at those stages that, well, something is missing. We should be recording the value of the free TV services that we receive. The idea is that what's happening is there's a business model. There's a business model that generates advertising revenue for those who provide us with the free services. And so the convention, following the national accounts rules thus far, suggests that this is also outside of the production boundary. Now, that's not to say that we don't feel it's important that we have some handle on what these estimates are, because they're important in the discussion about material well-being, less so in the discussion around GDP. Now, what we've tried to do is to say, okay, well, let's say that you're right. Let's say that these things should be included in GDP. What would be the impact? And that's sort of like a thought exercise. And so what we've done is, if you look at the chart on the right-hand side, we've estimated this so-called production of free services that we receive as consumers for all of the key media-type industries that provide these types of free services. And we're taking it to a massive extreme. We've said, okay, let's assume that all of their turnover that they generate, and that turnover is basically related to advertising. We say, let's assume that that's also something that we should be including again in GDP. And let's see what the impact is on growth. Now, you'll see that actually it's not immediately obvious what happens because, you know, growth is a phenomena that says that there are values at some point in time that may go up or down. And even if you increase the overall level, it doesn't mean you increase growth rates. So if we do this, for example, for Greece, the impact is that we reduce GDP growth. And even if you take it to the extreme for the US, where you've seen basically an increase in the size of these activities over time, the overall impact is still only about 0.1% on growth. So we're not seeing, even if we were to take this extreme position, which is not conceptually what we should be doing, but even if we were to do it, it would not explain the slowdown in productivity growth. What we've also done is had a look at data because there's a realisation that, you know, that data, for example, is another part of the funding model. and we've looked at the values of... Oh, my God, I've got two minutes. Right? I shall whiz through. We've done very similar things for assets as well. And we've tried to measure the value of Wikipedia. There is a paper that I will make... I'll provide Gian Paolo with links to that you can read through and you can have a look at the detail. But even if we try to value, for example, some of these assets like Wikipedia, you'll see that the impact on GDP is just not there at all. It's having no impact, certainly at the global level. Right. I will try to summarise all of this. I mean, one big issue, which is not really something that can explain the productivity slowdown because the impact, basically, is that we're seeing increases in one country and decreases in another, is globalisation and this exchange of knowledge-based capital. The ability of firms to transfer, basically, IP from one country to another is being facilitated by digitisation. And I've mentioned, for example, the Irish case, which many of you will be familiar with. Now, this is not something that can explain the productivity slowdown because the productivity slowdown is universal, it's global. So if we see a phenomena of reducing GDP in one country, then somebody else's GDP will increase. But we're not saying this is not an issue. This is clearly a measurement problem and one that we have to get a better handle on. And at the OECD, what we're trying to do now is develop much stronger guidance about this notion of location and this distinction between economic ownership and legal ownership, which is really at the heart of this particular issue. I'm going to script through because I want to talk about data. Now, this is really the elephant in the room. Again, we don't feel that the valuation of data in and of itself is something that's within the production boundary. It could be, but we'd have to change the concept of GDP. One of the things that's often forgotten about data is to some extent, the value of data is an embodiment of knowledge. And so if you start to think about the capitalisation of data, you're having a conversation about the capitalisation of human capital in one form or another. So any arguments that we should be including data in and of itself as an asset and also basically in the production process blows open the production boundary. And we're not saying that it shouldn't be there, but we are saying that this is where we are in terms of our thinking. So it's not easy, moreover, because a lot of data is provided as a transaction within firms for free. And so identifying those flows isn't easy. Now, what we're trying to do at the OECD is get a better handle of data flows just in terms of bits and bytes. The challenge after that, of course, would be trying to have some type of price for that data. Because even if data is outside of the production boundary, we can't just basically say as national accountants that it's not something that we consider as a produced asset, so go away and leave us alone. We have to recognise that whether we like it or not, data is an important asset for those firms that are able to use them to generate revenue. And certainly for productivity statistics and productivity analysis, we need to make sure that this is there. So we're thinking at the moment about introducing a new class of assets, not produced and not non-produced, but this other class of assets that's part of the balance sheet, and it is there in the balance sheets, because when we think about goodwill, goodwill captures these types of assets. but we want to make sure that it's explicit and clear within the production accounts. I have two minutes. That's nearly enough. So just going through perhaps some of the other work that we've done to look at the impact and size, we've looked at prices and volumes, because one of the most obvious places where digitisation creates difficulties in terms of price measurement. This is not new. Price measurement has been a problem for decades when we think about services, and we feel that digitisation may have created a bigger problem. So what I'm doing here is showing you a comparison of price indices for three common digital-type activities, ICT equipment, computer software and database, and communication services. The key message here is the wide differences that you see, and this is really surprising given the fact that things like ICT equipment, you'd probably think there's an international price and international price movements, so to see such annual diversions of price indices causes problems. Now, having said all of that, what we've tried to do is say, OK, well, let's take an extreme view. Let's assume that the worst-case scenario for a given country is basically what we would apply to all. So the country that shows the lowest, the most precipitous fall in price indices is what we apply to all other countries, adjusted for general inflation. What impact does that have on growth for these three categories of activities? And you see that the impact isn't very large. The blue column shows you current GDP, and the differences show you even if you take these extreme approaches using different assumptions, because one thing that's often forgotten is imports in all of this. And if you change, if you make your import prices fall a more precipitous rate, you will actually decrease GDP rather than increase GDP. So changing the quality doesn't always mean that you're going to change GDP in a positive direction, GDP growth. It may reduce GDP growth. Now, Belgium shows you the largest potential difference, but even the main change for Belgium is about 0.2% of GDP growth. So this is just a thought exercise to illustrate, okay, how big could the problem be? So again, we don't think that this is going to be able to explain away the productivity slowdown. So just in terms of where we are, I mean, I won't go through these in too much detail, but it's clear that we have work to do, certainly in terms of the way that we measure some of these phenomena, the occasionally self-employed, for example, the Uber drivers, in particular, international transactions and IPPs and economic ownership versus legal ownership. We have to understand better what it is we're talking about. What is the digital economy? We don't think that we're going to see a massive difference in current price estimates. They may very well be a smaller difference in volume estimates, but at the moment, we're not thinking this is going to be massive and it won't change basically our view in terms of productivity slowdown. But we should also recognize that digitization also provides us with opportunities to basically change or improve the way that we collect some of our data. Certainly when we think about some of these intermediaries, they have access to data in a way that we never thought imaginable. So we could go to Uber and say to Uber, you know, can you provide information broken down by different countries? Can you provide information about your employees? Because today, when you think about informal taxi employment, you have to go out with a labor force survey. In the future, if you speak to Uber, they will provide you with the actual estimates. They can provide you with the actual estimates of the turnover received by these drivers in a way that wasn't possible before. So there's lots of things that we can do to capitalize on it. The most important takeaway is that we need to show it in the accounts because that's really where the confusion lies. People assume, because I can't see it, it's not being measured. And the truth is, of course, it is being measured. It's being measured in different places, but it's hidden. Now, just as a final takeaway, this is where we are in terms of what we're thinking about visibility. We've created a topology, which is the top part, and that topology is helping us to create a satellite account. Now, I'm not expecting you to read the satellite account, but what I want you to take away from the satellite account is it's providing that visibility. It's focusing the discussion on making sure that we understand who the players are and we're thinking about how we change the classification system to better identify digital intermediaries. But the satellite account is also not just an account that looks at GDP in a narrow perspective. It recognizes that we need to have information beyond GDP, so, for example, the valuation of data, and also, of course, the consumer surplus has to be within this framework. So, grazie. Thank you. Thank you very much. Sorry for thanking Nadim for cutting a little the time, but in Italian, we say il tempo è tiranno, the time is a tyrant, and this is the game. If there are some quick questions, please, Aldo, quick. I like very much what you said about the fact that including certain things changes the very nature of what we're measuring through the GDP. and I think conceptually this participative and this place in production, free services, data as an asset, a human capital thing you mentioned, conceptually connects to other very much bigger, I think, free services we get from nature, family, society, friends, society at large, et cetera. So, I appreciate your coming up with a satellite account of all this, and I've got two questions. First, is the economic value of all these things, the market value of all these things, the real issue? Is it accounting, economic accounting, the answer to these challenges? And second, is the consumer surplus finite? Does it have a bounded measure? Okay, I would say that is a final question. I don't know if you have an answer. No, but the difficult questions, is the market value the real issue? I mean, certainly it is in terms of responding to those who criticize the measurement of GDP more generally, and that's why we have to focus on it. We wanted to try to give a market value just to illustrate that even if these things were in the production boundary, the impact on GDP is still not significant to explain the slowdown. But, I mean, yes, one could argue that actually this isn't the real issue from a policy perspective, and there are other things that are important. We also have to recognize that when we think about the market value of, in particular, participative production, I mean, there's this idea about what is the value, what's the, you know, is the replacement cost, an opportunity cost, and those are real issues that affect valuation. We've done work in the past in the OECD that tries to measure the value of these services we provide ourselves outside of digitization, and depending on which price you use, you end up with massive differences. If it's opportunity cost, you end up with a very different number from replacement cost. and, you know, you change GDP by between 50% to 60% to 70%, which means the whole thing becomes meaningless. And so we're not saying that the valuation of these activities is not important. What we are saying is that we cannot include them within GDP because GDP stops being useful for macroeconomic policymaking, for material well-being and for policies around basically improving well-being. It's important that we have some handle on this to understand what benefits that we receive as consumers from digitization that we're not currently seeing in the system. Is the consumer surplus site finite? I mean, that's a discussion that can last forever. We're not trying to measure in fairness the consumer surplus in this approach. What we're trying to measure is this imputed value of the services that we receive as one angle for the consumer surplus. The satellite account itself won't measure the consumer surplus. Okay. Thank you very much. Thank you, really, and I think it's been a very interesting discussion, presentation and discussion. Now we'll go ahead and we shift to another kind of satellite account, the environmental satellite account. Please, and we shift to Italian. Antonella ci presenta questa relazione che starà anche in questo caso. No, non lo so, non lo so, penso così. Ma io lo vedo qua le cose. Sì, sì, lo dovresti vedere. Maybe you know how... No, okay. Buongiorno a tutti. In questa presentazione intanto al lavoro comune a cui hanno partecipato anche Angelica Totini e Aldo Femia in quanto responsabili della produzione di conti ambientali e della loro implementazione. L'obiettivo di questa presentazione è proprio di dare delle informazioni su quello che sono i conti economici ambientali e le loro interrelazioni con i conti nazionali e con altre informazioni statistiche. Quanto sono integrabili con altre informazioni statistiche. Dare anche informazioni su quello che è lo stato dell'arte dei conti in Italia rispetto a quello che è previsto da regolamenti europei e internazionali e cercare di evidenziare quali sono i possibili utilizzo dei conti e dei loro indicatori e condividere con voi una possibile roadmap per il loro sviluppo futuro. così ecco allora diciamo che in realtà i conti economici ambientali sebbene rappresentino una componente importante del sistema dei conti nazionali sono comunque considerati un conto satellite e il conto satellite è proprio il conto che in realtà dettaglia consente di tagliare meglio un'informazione un fenomeno descrivendone anche dei flussi che in realtà rimarrebbero non osservati nel quadro centrale dei conti diciamo descrivono quindi molto bene questa interrelazione tra ambiente ed economia e facendo un quadro di riferimento concettuale ben definito e sfruttando anche tavole ed indicatori standardizzati a livello internazionale quindi diciamo che consentono proprio di misurare il contributo dell'ambiente sull'economia e anche dell'impatto che il sistema economico ha sull'ambiente per certi versi quindi si differenziano proprio dai conti economici e ambientali il cui obiettivo principale è quello invece di descrivere il sistema economico e il suo funzionamento andando a monitorare alcuni aggregati cui il principale indicatore è il prodotto interno lordo diciamo questo schema è uno schema che rappresenta molto bene quelle che sono le interrelazioni tra economia e ambiente se visto in termini di flussi fisici di flussi fisici infatti i flussi fisici proprio l'unità fisiche sono proprio un punto chiave nella misurazione dei conti ambientali e quindi questo schema descrive le interrelazioni quindi come gli input anatorali entrano nel sistema economico e il sistema economico all'interno del sistema economico vengono registrati i flussi dei beni servizi e prodotti e quelli consumati dall'interno dell'economia dalle imprese dalle famiglie e dalla pubblica amministrazione come queste diciamo ci siano un flusso di prodotti che ritorna verso l'ambiente attraverso i residui i conti monetari quindi questa è una rappresentazione dei conti fisici i conti in realtà monetari registrano invece fondamentalmente le risposte che la società quindi rappresentata proprio dalle imprese dalle famiglie e dalla pubblica amministrazione registrano proprio le risposte che la società mette in atto per ridurre l'intensità di queste relazioni che hanno che modificano in qualche modo l'ambiente e che fondamentalmente esauriscono le risorse del sistema diciamo che il grado di maturazione dei conti ambientali è molto diverso cioè diciamo è diverso rispetto a quello dei conti nazionali proprio perché nascono diciamo negli anni 90 c'è stato tutto un processo quindi di costruzione anche della della metodologia fino a quando siamo arrivati soltanto cioè le prime diciamo l'obbligatorietà da parte di alcuni dei paesi di trasmettere informazioni dettagliate queste tavole conti ambientali trasmettere in maniera obbligatoria i conti ambientali è recente cioè il primo regolamento risale al 2011 poi c'è con una modifica ulteriore modifica nel 2014 che implementa l'insieme dei moduli dei conti ambientali il processo non è ancora finito tanto che a livello europeo si sta pensando di estendere i conti ambientali anche ad altri agli ecosistemi e per esempio si sta parlando anche di conti per le acque diciamo in questo slide troviamo tutto l'elenco di quelli che sono i conti economici ambientali che si dividono in fisici e monetari quindi diciamo tutti i conti fisici sono attualmente stati implementati dall'Istat mentre per i conti monetari diciamo non siamo diciamo abbiamo cioè soltanto dobbiamo completare i conti del settore dei beni e servizi in quanto abbiamo avuto una deroga da Eurostat e quindi questi conti saranno completati per la fine dell'anno altri conti come abbiamo detto sono stati non sono sottoposti a regolamento ma ci sono alcune esperienze sui conti delle foreste sui sussidi ambientali e su altri sui conti dei rifiuti però diciamo ancora appunto come ripeto sono al di fuori non sono questi conti non sono ancora regolamentati e quello che ci premeva sottolineare è proprio c'è la capacità di questi conti di essere utilizzati per vari obiettivi proprio perché i conti economici ambientali integrano tutte le informazioni diciamo esistenti sulle statistiche ambientali e altre statistiche e assicurando però la coerenza con il sistema dei conti nazionali e questo è proprio il valore aggiunto di questo sistema quindi diciamo forniscono delle informazioni tra di loro comparabili con un alto livello di qualità diciamo che possono essere utilizzati prevalentemente per analisi e per ricerche sul tema dell'ambiente possono essere utilizzati possono essere rappresentare un sopporto per i decision makers possono essere utilizzati per la valutazione delle politiche così come essere utilizzati per modelli per fare modelli e scenari per capire l'impatto di alcune politiche anche a livello non solo all'interno del paese ma tra paesi e anche a livello globale qui abbiamo ci siamo cimentati in una presentazione alcune diciamo di alcune possibilità di utilizzo cioè diciamo ci sono delle una sequenza di grafici e di tavole che ci consentono in qualche modo di mettere in luce le potenzialità informative di questi conti per esempio in questa slide abbiamo diciamo una e una i dati sulla sulla i flussi i flussi di materia in serie storica allora i flussi di materia diciamo che sono uno dei conti più generali dei conti ambientali diciamo rappresentano quello che viene chiamato il metabolismo socio-economico quindi il consumo materiale di flusso e in questo caso praticamente troviamo questo slide indica proprio con la linea continua numeri indici su come diciamo la dinamica del consumo di materia mentre invece le barre indicano il consumo pro capito e quindi si sta diciamo questo è un indicatore strutturale molto importante che tra l'altro stiamo cercando di sviluppare anche a livello regionale e quindi è uno dei progetti in corso qui invece abbiamo l'indicatore delle emissioni atmosferiche questo è un indicatore che ci consente di trattare più di dettaglio a livello di fonti informative in questo caso c'è questo indicatore che consente di confrontare proprio aggregati socio-economici con le pressioni se citate sull'ambiente naturale queste pressioni diciamo quindi queste informazioni sono disponibili per 24 sostanze inquinanti e 3 indici di pressione quindi troviamo due uno che riguarda l'emissione di acidificanti e l'altro che riguarda l'emissione di gas serra quindi questo grafico mette in evidenza come diciamo si sta ampliando il disaccoppiamento tra il valore della produzione e le emissioni acidificanti mentre invece sta aumentando il rapporto tra il valore dell'output e le emissioni di gas serra specialmente nel periodo 2008-2014 che in qualche modo potrebbe stare ad indicare come ci sia se è stato può essere visto come una crescita diciamo dell'utilizzo di energie rinnovabili uno dei più recenti uno dei più recenti conti ambientali presentati dall'Istat è quello dei conti fisici dell'energia è stato presentato agli inizi del 2018 questo conto riporta tutti i flussi di energia quindi dall'ambiente verso l'economia quelli all'interno dell'economia e dall'economia verso l'ambiente le informazioni sono molto dettagliate sono disponibili per 20 prodotti sono per 64 settori di attività economica compreso il settore delle famiglie utilizzano una struttura di natura matriciale quindi le informazioni sono rappresentate attraverso delle matrice supply e use da dove le risorse sono disponibili per origine quindi se di origine di produzione interna o se importata mentre gli impieghi per destinazione questo anche questo diciamo anche il PEFA chiamato i conti dei flussifici di energia possono essere utilizzati per numerose analisi anzi tra l'altro diciamo vediamo che è proprio un indicatore quello dell'intensità di energia dell'output è un indicatore che viene usato viene inserito nel rapporto di competitività che è un prodotto dell'Istat accanto ad altre informazioni sulle rastrezze strutturali dell'impresa e diciamo in questo caso questo è un indicatore di intensità energetica rapporta il consumo di energia misurato in questo caso in tonnellate di petrolio equivalente sul valore dell'output espresso invece in milioni di euro quindi questo grafico è solo per far capire che questo indicatore può entrare può diciamo corredare altre informazioni diciamo più tradizionali disponibili a livello settoriale ecco questo diciamo questo tipo di intensità energetica viene è stato misurato in questo caso stiamo presentando le date solo per il settore del trasporto e del magazzinaggio ma in realtà è possibile effettuare le stesse misurazioni anche per altri settori passiamo al tema invece della diciamo delle imposte ambientali queste rappresentano dei prelievi obbligatori che non sono commisurati ai benefici che il singolo riceve dall'azione dell'amministrazione pubblica quindi la base impositiva per un'imposta ambientale è rappresentata proprio da una grandezza fisica che ha un impatto negavitivo provato sull'ambiente in questo caso per esempio abbiamo riportato il anzi tra l'altro queste tasse si dividono per tipologia quindi sono tasse energetiche tasse per il trasporto tasse per l'inquinamento anche altre risorse ma anche nel caso dell'Italia non riconosciamo nessuna diciamo tassa da inserire in questa ulteriore tipologia di tassa e qui mettiamo a confronto per due anni 2002 e 2016 diciamo le tasse ambientali sul totale delle tasse dei contributi sociali per l'Italia e per l'Europa e quindi questo è un altro elemento di analisi interessante questo invece diciamo è un un esempio per diciamo per come si possono utilizzare i dati dei conti per le spese della protezione dell'ambiente le spese della protezione dell'ambiente sono quelle quindi sono dei dati che si riferiscono alle risorse economiche destinata alla protezione dell'ambiente queste protezioni comprende tutte le attività e l'azione il cui obiettivo principale è la prevenzione e anche la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento di altre forme di degrado diciamo che in questo caso abbiamo voluto dare più che l'informazione sulla spesa nazionale per la protezione dell'ambiente invece il peso degli investimenti delle imprese del general government per la protezione dell'ambiente anche in questo caso vediamo che insomma le spese c'è anche in questo caso c'è un confronto fra l'Italia e diciamo la media europea questo salto diciamo qui invece diamo una rappresentazione di come potrebbero essere utilizzati i dati sul settore dei beni e servizi ambientali in questo caso stiamo parlando delle cosiddette eco-industrie quindi praticamente diciamo sarebbero tutti i settori in cui la principale attività è rivolta alla produzione di beni e servizi atta a misurare prevenire eliminare limitare correggere danni ambientali prodotti dall'acqua dall'aria dal suolo e questo diciamo abbiamo riportato dato che ancora come vi dicevo questo conto non è ancora completato lo sarà a fine dell'anno abbiamo riportato informazioni disponibili stime effettuate direttamente dall'euro stat dove si vede che per esempio sul totale dell'output di questo eco-industria il 40% della produzione si riferisce proprio alle energie alle risorse energetiche alle risorse innovabili quindi diciamo ecco inoltre quello che volevamo in qualche maniera mettere in evidenza è che sempre di più queste informazioni questi indicatori vengono utilizzate per le politiche tant'è che diciamo indicatori di natura derivati dai conti ambientali si ritrovano nel rapporto sul benessere ecosostenibile vengono utilizzati per sustainable development goals delle Nazioni Unite si ritrovano nel rapporto di competitività come abbiamo fatto vedere precedentemente come appunto intensità energetica per settori di attività economica vengono utilizzati per la relazione sulla solidarietà energetica del paese del Mise in particolare lì diamo informazione sul consumo finale dei prodotti di energetica delle famiglie sulle taste energetiche e sul valore aggiunto del settore energetico diciamo sul documento di economia e finanza ritroviamo anche l'indicatore delle emissioni di CO2 inoltre diciamo queste informazioni sono trattate e sono sviluppate nell'ambito di un comitato sul capitale naturale e ci sono anche studi in corso sulla economia circolare diciamo per quanto riguarda le conclusioni quindi in termini di conclusione possiamo dire quindi che i conti ambientali sono uno strumento molto potente per l'analisi e per il supporto delle politiche e diciamo che per quanto riguarda l'Italia noi siamo compliant con i regolamenti a fine dell'anno completeremo l'ultimo modulo che rimane quello del settore dei beni e servizi ambientali mentre invece per quanto riguarda la road map per implementare attività per il futuro dei conti diciamo sicuramente vorremmo puntare ad incrementare la tempestività di questi dati riducendo proprio i gap che esistono attualmente tra l'anno di riferimento dei dati e l'anno di diffusione dello stesso lavoreremo ancora molto sul discorso dell'integrazione tra conti nazionali e conti ambientali un qualcosa che tra l'altro caratterizza già l'Istat rispetto l'Italia rispetto ad altri paesi perché molti paesi non puntano su questa integrazione mentre invece nel nostro caso diciamo c'è una forte attenzione all'integrazione e si sta andando sempre di più verso un miglioramento in modo tale che ci sia una stretta coerenza tra le informazioni prodotte dai conti economici ambientali e quelle dei conti nazionali un altro aspetto molto importante vorremmo curare vorremmo sviluppare la lunghezza delle serie storiche questo è molto importante per tutte le attività di ricerca e quindi anche perché come avete visto alcune informazioni sono disponibili per una serie molto lunga altre insomma per adesso disponiamo soltanto del 2014 e 2015 come anni di riferimento e in più come avevo già accennato stiamo lavorando per sviluppare flussi di materia anche a livello regionale e questo è in collaborazione anche con colleghi degli uffici regionali dell'Istat qui di seguito quindi ho concluso però volevo dirvi che per saperne di più per avere ulteriori dettagli su queste sulla tematica dei conti economici e ambientali potrete trovare informazioni ulteriori in poster in questi tre poster che verranno a breve presentati nella sessione poster e qui troverete tutti i riferimenti regolamentali legati ai conti ambientali quindi più i principali mentre qui in questa slide potete trovare il modo di accedere ai nostri dati perché come vi rivedo essendo una componente dei conti nazionali tutte le informazioni statistiche connesse a questi conti sono disponibili sotto il tema conti nazionali grazie 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 Antonella non ho presentato Antonella molti la conoscono ma è il capo servizio di uno dei servizi della contabilità nazionale in particolare quello del domanda input di lavoro e conti ambientali direi che procediamo con Nadim as a question how to deny a question I've always tried to avoid presenting the GDP and GHG story on the same side because it can be misleading decoupling is driven partly by the servicification of the economy so there's an expectation that you'd see GHG emissions declining so there's obviously perhaps false indicators for policy making presenting that and I prefer to present it as per capita but the other factor that explains decoupling is taxation in and of itself when you have penalties in developed economies that discourage dirty production it's basically outsourced and so you see these declines certainly within OECD countries but actually at the global level and that's where the problem is you're seeing increases so the question is have you looked to adapt your model and the supply use tables in particular to provide estimates of consumption of GHG rather than just production yes we do but I prefer that my colleagues answer to these questions it's me I'm afraid well thanks for the quick answer please yeah I could be talking for hours you know you know me well yeah I would I would highlight the distinction between accounting and analysis first accounting is a tool for analysis and what you said about the localization and it can be seen by using the accounts as a tool as a basis for analysis the tools we we and Eurostat and the OECD as well use for doing certain analysis input output analysis mainly so if you want to know what the air emissions corresponding to a certain final consumption at the global level you can use the wired model you can use the national technology assumption but basically that's that's the way you do it I think to the point this is the answer then we could talk we've done some experimentation but nowadays we've got huge models worldwide models interconnecting input output tables across so it's outdated what we've done in the past I would say ok grazie sì penso che sia stata insomma utile per tutti questa rapida overview dei conti ambientali che insomma su cui abbiamo fatto tanto sforzo per produrli e ancora abbiamo l'impressione che siano ancora relativamente poco conosciuti diffusi e utilizzati e quindi insomma era anche uno spot pubblicitario e poi andatevi a vedere i poster andiamo avanti cerchiamo di andare avanti velocemente con Nadia di Veroli che insieme ad Alessandra Costinelli ha preparato questa presentazione Alessandra poi oggi non ha potuto essere qua la presenta Nadia ma la presentazione era assolutamente comune Nadia è una ricercatrice senior della contabilità nazionale ma in particolare sta seguendo e coordina il lavoro su globalizzazione è l'esercizio pilota europeo sulla misurazione delle dell'attività delle multinazionali che è un po' diciamo il principale argomento di questa presentazione il tema della globalizzazione di come si misura la globalizzazione si sta sempre più diffondendo io dovrei stare a Vienna a un seminario su questa cosa invece sono molto meglio qua a Roma per dire anche a livello internazionale ci sono seminari esattamente in questi giorni su queste questioni tutti ne stanno parlando stiamo cominciando a lavorarci sul serio e Nadia ci racconta un po' come il contenuto informativo della presentazione è molto più ampio del tempo a questo dedicato pertanto su alcune slide andrò molto veloce e vi dirò i concetti fondamentali dopo di che potrete utilizzarle meglio insomma per ulteriori informazioni dopo una panoramica diciamo su come sta cambiando la globalizzazione sta cambiando il sistema economico vi spiegherò qualcosa sulle implicazioni che l'applicazione dei principi imposti dai regolamenti europei hanno nei conti nazionali riguardo all'area della globalizzazione in particolare dei flussi attivati dalle multinazionali dopodiché vi illustrerò alcune delle attività che Eurostat sta portando avanti in quest'area e come si sta organizzando l'Italia e quindi verso l'orientamento futuro del sistema delle statistiche appunto orientato appunto alla globalizzazione chiaramente il mondo va bene il mondo cambia rapidamente la globalizzazione cambia i processi produttivi e rende i confini tradizionali poco chiari i cambiamenti che sono positivi per le imprese sicuramente per aumento della profittabilità della produttività ed anche per i consumatori probabilmente complicano la vita degli statistici non poco dove ci sta portando la ricerca di modi più efficienti di produrre ci fa allontanare sempre di più dai modelli tradizionali di produzione verticalmente integrata anche a livello nazionale passando a processi produttivi che sono sempre più sparsi in tutto il mondo e questo chiaramente crea problemi e sfide nell'adeguatezza nell'allocare adeguatamente il valore aggiunto e quindi il prodotto interno lordo e il reddito nazionale ai singoli paesi in questa slide soltanto per dare un'idea di quanto valore aggiunto quanta parte del valore aggiunto creato da ciascun paese europeo è creato proprio dalle imprese a controllo estero distintamente se controllo intra-UE o extra-UE e quello che si può vedere è che chiaramente l'Irlanda è il paese che ha la più alta quota di valore aggiunto creata da imprese a controllo estero in particolare da imprese non UE non dell'Unione Europea l'Italia diciamo siamo intorno ad una quota che è al di sotto del 10% e all'incirca l'8% del valore aggiunto totale due cifre per dare un po' la dimensione del fenomeno le multinazionali in Italia si parla di circa 22.000 gruppi che coinvolgono circa 111.000 unità residenti e 3.500.000 di occupati di queste multinazionali 13.800 circa hanno l'impresa madre residente e 8.300 hanno un'impresa madre estera chiaramente la transazione dal PIL al GNI dal PIL al reddito nazionale è particolarmente diciamo cruciale in questo ambito in quanto il reddito nazionale che è stimato appunto come aggiungendo al PIL il saldo netto dei redditi primari con l'estero è la base imponibile per la stima per il calcolo della risorsa propria di ciascun paese e le entrate dell'Unione Europea che vengono dalle risorse proprie costituiscono circa tre quarti delle entrate complessive dell'Unione Europea chiaramente diventa particolarmente importante garantire sia la coerenza del reddito nazionale di un paese con quella di un altro paese sia l'affidabilità delle stime aggregate a livello di tutta Europa un esempio per tutti è quello dell'esempio dell'Irlanda che ha rivisto nel 2016 di il PIL e il reddito nazionale di una forte di un forte una forte percentuale il PIL rialzo il reddito nazionale ribasso per lo spostamento di una multinazionale importante da un altro paese all'Irlanda chiaramente questo qua ha avuto meno impatto sui conti dell'Europa in quanto il paese di contropartita non era un paese europeo ma era un paese extraeuropeo se fosse stato un paese europeo avrebbe implicato una serie di aggiustamenti anche nelle varie estime macroeconomiche degli altri paesi per quanto riguarda appunto il sistema europeo dei conti diciamo con l'ultima l'ultima diciamo release del sistema europeo dei conti ha chiarificato tre concetti fondamentali il concetto di residenza cioè quando un'unità può essere considerata residente di un paese e parte quindi dell'economia nazionale il concetto di economic ownership quindi quando un'unità istituzionale è riconosciuta come l'owner di un asset o di un bene e quando si può riconoscere il cambiamento dell'ownership e l'area degli intellectual property product quindi dei prodotti della proprietà intellettuale è stata stesa alle spese per la ricerca e sviluppo che sono state riconosciute quindi come come investimenti come quindi costituiscono accumulazione diciamo di conoscenze e quindi di capacità produttiva il concetto di residenza quindi è non di facile applicabilità quando si parla di multinazionali in quanto chiaramente le si dovrebbe molte multinazionali tendono a costituire centri predominanti di interesse che è diciamo il principio base che è alla base diciamo del concetto di residenza tendono a costituire centri per i nominanti di interessi in vari paesi e quindi costituendo molto spesso delle branches che non sono poi alle quali non viene riconosciuto uno status legale separato chiaramente in questi casi noi abbiamo l'obbligo di considerare queste unità che hanno magari delle sostanziali attività economiche come unità residenti poi questo è un caso particolare di unità residenti le special purpose entities che comunque su questo andrei un po' più veloce su queste comunque anche che debbono essere considerate pur essendo diciamo strettamente legate all'impresa a cui appartengono debbono essere considerate unità residenti muovono delle attività molto spesso che interessano i conti finanziari e per alcuni paesi sono particolarmente rilevanti tipo ad esempio l'Olanda e quindi il fatto di considerare le unità residenti implica una serie di conseguenze sui flussi economici per quanto riguarda il concetto di ownership questo è colui che è colui che si diciamo il proprietario economico di una certa entità che può essere un bene un servizio o anche un prodotto della proprietà intellettuale è riconosciuto come tale quando si può associare gli vengono riconosciuti i suoi rischi in virtù del fatto che gli vengano associati anche i benefici vengono riconosciuti i benefici in virtù del fatto che gli vengano associati anche i rischi quindi l'applicazione del scusate un attimo l'applicazione del principio dell'economic ownership è particolarmente importante per quanto riguarda la classificazione dell'attività economica e il tipo di output che viene prodotto e chiaramente anche per le transazioni a livello nazionale e internazionale che vengono attivate attraverso questi processi produttivi che utilizzano il valore e l'entità chiaramente l'applicazione del principio dell'economic ownership è particolarmente complessa nel caso delle multinazionali che svolgono diciamo un'attività economica appunto transnazionale e che quindi sono poco le loro transazioni a volte sono poco riconoscibile anche perché non si dispone di tutto il set informativo necessario per distinguerne i flussi utili diciamo e rilevanti quindi non è sempre semplice ed è necessario effettuare delle analisi piuttosto approfondite le analisi approfondite fatte da fare all'interno della multinazionale che cosa implicano implicano l'esplorazione dei global production arrangements che sono sostanzialmente accordi di produzione presi tra imprese all'interno della stessa multinazionale che regolamentano il loro processo produttivo diciamo che i casi più importanti sono il merchanting quando si brevemente descrivo quando si acquista un'unità residente acquista beni o servizi all'estero da un'altra unità residente non residente e li rivende ad una terza unità residente senza che i beni o i servizi i beni in particolare passino assolutamente per il territorio nazionale dell'acquirente oppure quando dei beni vengono mandati a lavorare all'estero inviando ad esempio degli input ma anche del know-how dei prodotti della proprietà intellettuale e il processo di lavorazione viene svolto completamente in un altro paese per poi ritornare o a volte non ritornare il prodotto lavorato per quanto riguarda invece le factory last goods producer sono proprio la frammentazione massima si tratta qui della frammentazione massima del processo produttivo quindi quando il processo produttivo viene completamente esternalizzato a delle imprese che non risiedono sul territorio economico di chi dovrebbe svolgere il processo produttivo dovrebbe chiaramente l'applicazione del principio dell'economic ownership ai prodotti della proprietà intellettuale i cui esempi più clamorosi sono la ricerca e sviluppo e il software ad esempio che sono prodotti dell'intelletto diciamo facilmente trasferibili tra un'impresa e un'altra pongono diciamo problemi per applicare appunto quel principio di rischio e di ricompensa di cui si parlava nella definizione dell'ownership il rischio a volte può essere riconosciuto come proprio la responsabilità per il mantenimento o la riparazione dell'asset che si può diciamo poi realizzare con il pagamento di una commissione all'impresa madre oppure la ricompensa sono svariati i canali attraverso i quali si può avere la ricompensa del prodotto della proprietà intellettuale o attraverso l'utilizzo stesso nel proprio processo produttivo e quindi l'output del processo produttivo è la ricompensa stessa oppure si può diciamo dare ad un'altra impresa l'utilizzo concedere l'utilizzo dell'IPP ad un'altra impresa dietro il pagamento sempre di una commissione oppure il proprietario può continuare a sviluppare ricerca ad esempio intorno a questo asset e il valore di questa ricerca sarà dato dai guadagni futuri attesi quindi per riassumere il concetto di residenza è strettamente connesso alla locazione adeguata del valore aggiunto del prodotto lord del reddito nazionale l'applicazione del principio dell'economic ownership diciamo tocca molto l'attività la diciamo la 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 definizione dell'attività economica svolta quindi dell'output prodotto l'identificazione dell'output prodotto come anche appunto i flussi di beni e servizi di importazione e di esportazione di un paese c'è da tenere presente che a volte non esistono i flussi monetari quindi non possono essere osservati direttamente dei flussi monetari nel passaggio di questi prodotti della proprietà intellettuale e quindi ci si deve rifare a delle convenzioni questo per dire che sostanzialmente non sempre i flussi monetari ci portano dove ci portano i flussi di beni e servizi chi sono gli attori principali nella misura della globalizzazione attraverso i paesi sicuramente sono le istituzioni internazionali come l'OECD come Eurostat che ci debbono fornire delle manuali e delle linee guida che siano applicabili univocamente interpretabili sicuramente Eurostat ha un ruolo importante anche nel coordinare e facilitare i rapporti tra paesi europei alla fine appunto per misurare adeguatamente i fenomeni legati all'attività delle multinazionali e nell'implementazione chiaramente hanno un ruolo fondamentale gli uffici nazionali di statistica come anche come anche le banche centrali specialmente nel caso dell'Italia in cui la bilancia dei pagamenti è compilata dalla banca centrale dalla banca d'Italia quindi andiamo su questo che è più carino Eurostat che cosa sta facendo Eurostat ha attivato due flussi di lavoro uno che riguarda l'implementazione uno che riguarda la verifica l'implementazione è un il flusso dell'implementazione è sostanzialmente orientato al miglioramento delle linee guida da fornire ai paesi e il flusso di verifica è orientato proprio alla identificazione dei casi alla misurazione dei casi in collaborazione condivisa tra paesi chiaramente questi due flussi sono interconnessi proprio diciamo così è un learning by doing quindi facendo si impara e si dovrebbe anche migliorare si dovrebbe anche arrivare a migliorare le linee guida per fare questo Eurostat ha fondamentalmente fatto due diciamo ha realizzato due importanti due importanti fatti diciamo una rete tra paesi europei l'early warning system che è una rete per venire a conoscenza in modo più rapido possibile di casi di ristrutturazioni all'interno di multinazionali e per quindi assicurarne un trattamento corretto e il pilot exercise il pilot exercise che sarebbe un esercizio da condurre su 25 multinazionali che coinvolgerà tutti i paesi europei e in particolare per l'Italia noi saremo responsabili di tre multinazionali come lead country quindi dove il centro decisionale si ritiene sia in Italia e questi attivano all'incirca coinvolgono 78 unità residenti e saremo partner country per 21 multinazionali con un coinvolgimento di 123 unità residenti chiaramente di queste dovremmo rilevare sia informazioni qualitative sia informazioni quantitative mettere insieme alle informazioni raccolte negli altri paesi e disegnare un quadro condiviso e condiviso e accettato anche dai vari paesi che ne fanno parte per far tutto questo una cosa Eurostat ha anche predisposto un ambiente sicuro per lo scambio dei dati per lo scambio confidenziale dei dati che è appunto un aspetto molto importante di tutta questa storia perché si deve comunque prevedere un momento in cui si scambiano i dati nominativi ma i dati verranno scambiati all'interno degli istituti di statistica solo con i paesi che sono coinvolti direttamente nello studio nella misurazione di quella multinazionale come ci stiamo organizzando in Italia in Italia all'interno della direzione delle statistiche economiche è stata realizzata la large cases unit che molti paesi hanno già noi l'abbiamo costituita da un paio di anni e diciamo che si deve occupare appunto di questi gruppi in prevalenza di questi gruppi multinazionali e chiaramente la large cases unit è anche un po' l'entry point l'entry point di Eurostat per la rete l'early warning system di cui vi parlavo prima al tempo stesso all'interno della contabilità nazionale abbiamo creato un team di esperti che diciamo si deve relazionare sia con la large case unit e sia deve cercare di garantire la coerenza tra la contabilità nazionale e la bilancia dei pagamenti attraverso la stretta collaborazione con la Banca d'Italia quindi stiamo andando verso un nuovo sistema di statistica orientata alla globalizzazione che prevalentemente diciamo cosa deve fare deve fare una ricognizione delle fonti esistenti capire se si possono utilizzare in modo più efficiente le fonti che abbiamo cercare di identificare anche il gap informativo cosa ci manca per misurare i flussi come dovremmo più che altro identificarli nei casi in cui non abbiamo neanche i bilanci ad esempio che ci possono aiutare poi abbiamo tante attività di formazione interna che stiamo facendo partecipiamo a molti gruppi di lavoro internazionali e cerchiamo di condividere il più possibile le conoscenze che acquisiamo a livello internazionale e queste più o meno sono tutte le attività che stiamo mettendo sempre di più in essere in pratica e andando verso questo sistema che cosa bisogna elementi chiave di questo sistema cosa saranno cosa sono la consistenza tra a livello nazionale tra i vari domini quindi statistiche strutturali piuttosto che conti nazionali e bilanci pagamenti ma anche la consistenza tra paesi europei la rapidità sia nel venire a conoscenza ad uno stadio diciamo primario insomma dei cambiamenti in atto e sia la rapidità delle fonti che è necessaria appunto a far emergere le incoerenze e lo sviluppo e al tempo stesso si è aperto diciamo anche un filone di sviluppo di ulteriori disaggregazioni di indicatori che vengono dai conti nazionali come possono essere i conti istituzionali o la supply news fatti diciamo in modo distinto per l'economia domestica e che facciano vedere quello che viene in realtà prodotto nel sistema dalle multinazionali dalle multinazionali chiaramente quali sono i temi scottanti ci sono dei temi scottanti sono l'individuazione cioè il fatto di doverci scambiare i dati sia tra istituti di statistica e Unione Europea sia tra istituti di statistica e Banca Centrale pone non pochi problemi diciamo di riservatezza e confidenzialità quindi diciamo c'è tutto un aspetto che si apre sulla regolamentazione di questa di questa dello scambio dei dati adeguato è una regolamentazione adeguata ed inoltre il problema un ulteriore problema è che molte delle informazioni come vi dicevo non sono reperibili dalle fonti che conosciamo e anche dai bilanci ma molto spesso è necessario per indagare sugli accordi produttivi all'interno di una multinazionale cosa implicano questi accordi è necessario indagare all'interno dell'impresa stessa e per questo è indispensabile la collaborazione delle imprese nella nostra attività quindi qual è il nostro obiettivo principale è aggiornare l'infrastruttura statistica per assicurare una qualità adeguata e un miglioramento della qualità un miglioramento della qualità delle statistiche di base delle statistiche macroeconomiche e una consistenza tra domini progressivamente stiamo realizzando tutte queste questi miglioramenti che diciamo entreranno prima nelle statistiche di base e entro il 2024 se ne avrà un riflesso diciamo completo nei conti nazionali nel PIL e nel reddito nazionale grazie 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 Nadia era un compito sufficientemente complesso quello di tentare in un breve tempo di raccontare questa storia così lunga Nadia I know the small comment from Nadia we set up a high level group of chief statisticians and chief economists to look at globalisation certainly in the wake of the Irish case and we so far made a number of recommendations and it's good to see that two of those key recommendations have been picked up by you the large case unit and this breakdown of supply use tables showing the ownership breakdown multinational foreign multinational and purely domestic and this is really I think very important in making sure that we understand why we're seeing these changes in GDP the third recommendation that we're making is that we need to make sure that there's a more explicit link between the balance sheets and operating surplus and so we're going to encourage countries to try to use the growth accounting framework to show the contribution of different types of capital to operating surplus and so in the Irish case you would have seen straight away with this approach that well look GDP has gone up by 26% but nearly all of that is explained by a multinational with intellectual property so you know the dynamic would have helped I think enormously in that respect the final recommendation that we're making is that we certainly at the OECD and with other international organisations will need to be much more prescriptive in what economic ownership means we recognise that the distinction that we have with the national accounts the SNA at the moment is not good enough and the work that we've done in the past certainly in this handbook on globalisation that we produced many years ago doesn't provide perhaps a mechanism that's strong enough and so we're going to start looking now at developing much more detailed recommendations that all countries can follow in exactly the same way so we make sure that we have a better handle on this finally what we're also doing at the OECD is developing a database of multinationals using publicly available information and that we hope will be an umbrella for all countries to see what the basically profiling of certain firms are and we're working also with Eurostat so they can feed into their EGR and their early warning system so just comments not questions ok thank you I think that we go ahead Cecilia is going to present thank you very much a presentation about a topic that is quite related to other discussed today so we continue please ok so thank you very much I will move to English also because I mean it's more natural for me to talk about intangibles using English because I mean the translation sometimes is a bit weird I will try to be quite fast since I know that there are other sessions starting and so I will do my best ok so this presentation is to show you some advancements in you know the research on intangibles that now I mean it's something where I am involved since more than 10 years ago and in this presentation I will show you some results that are from joint work together with Carol Corrado Jonathan Askell and Massimiliano Iommi ok when we talk about intangibles we and national accounts it is worth to start with a classification just to see where we are I mean what is the state of the art today and the reason why this is relevant is because not all the assets that are defined as intangibles in this recent literature are actually included in the boundaries of the national accounts so in this table what you can see you have the classification that was introduced in 2005 by Carol Corrado Charles Alton and then Siekel where essentially they identified three main categories of intangible assets that are the computerized information innovative property that includes R&D mineral exploration but other assets like for example the design and or for example other product development cost and then you have a third category which is the economic competencies that includes activities like the market research or training and skill development all activities that are assumed to generate some returns for the firm that essentially invests in these assets now as you can see in the third column only some of them are already included in the national accounts as investment the most recent is R&D as all of you know very well while there are others and especially all the categories that are classified under economic competencies that are not yet included in the asset boundary but are still considered as intermediate cost the reason why I underline this is because as you will see if we decide to adopt an approach that is a little bit broader than the current national accounts boundary and we include all these assets into the boundary we can have a different picture of economic growth of different drivers of growth a different idea of what the productivity slowdown is now since the time is short I'm not going to tell you where we started because there has been several EU founded projects to measure these assets but you will find all this information in the slides and I will move immediately to the first picture that represents essentially the relevance of market sector intangibles for the US and for the EU 15 plus the new member states economies essentially to get the sense of how relevant the intangible assets are when you take into account the tangible assets as we know them in the national accounts the intangible has we know that are classified in the national accounts so R&D software and so on and then the new intangible that essentially those assets that are listed in the previous table has not included in the asset boundaries well as you can see if you just look at the US you can see that the US is essentially a more intangible intensive economy in terms of intensity of assets versus GDP and this is true also if you make a comparison with the EU countries where you realize that essentially the intangible assets that are represented by the blue bars if you look at them as a whole or the light blue bars if you look only at the new intangibles account for a very large share of GDP going from 4 to 4.5% versus the national accounts intangibles that are 4 to 3%. Now if you then look at the composition of the intangibles taking into account to the classification that we have just looked as you can see here we have the three main categories the red one is software then the light grey is innovative property and the dark grey is economic competencies well if you take the average of the GDP share over 2000 2013 what you observe is that the economic competencies are the main driver of intangible investment and this is relevant because in some sense if of the contribution of capital to labor productivity growth this can be a missing relevant part in terms of that if we then look at the role of the sectors meaning that we look at what's going on in the market and non-market sector we can see how the different sectors can contribute to the overall share of intangible investment in this chart what you can see is that you have the blue bars represent the share of the market sector meaning the business sector type of intangibles over value added while the red bar is referred to the non-market sector so all the sectors that belongs to the public administration and some related activities as expected intangibles are more relevant in the business sector but as you can see in some countries like for example the US or Sweden the non-market component can be quite significant now why however all this literature assumes is convinced and there is evidence that intangibles matter also in terms of the possibility of explaining for example the productivity slowdown or also to get a different picture of the GDP growth itself well intangibles can affect growth through different type of channels and essentially you can make a distinction between a direct contribution or an indirect contribution to that if you think about the direct contribution you can have like a primary effect that is for example the contribution through the capital deepening or through the contribution via complementary type of effect for example there are several studies showing that intangibles can interact with other assets like ICT for example excuse me I need some water because of air conditioning ok better sorry so as I was saying there are two different type of channels and the primary effect is essentially when you think about having an extended asset boundary when you can capitalize additional assets what the exercises of growth accounting show and I will show you in a minute is that you can have significant contributions from non-national account intangibles then then you have other contributions that become relevant also in terms of interpretation of for example the productivity slowdown and the idea is that intangible assets and especially some of the non-national account intangible assets generate spillovers able to generate spillovers so this can be another relevant thing to think about it okay so if we try to besides thinking about the measurement for a while but just try to figure out why it can be so relevant for example in terms of the productivity slowdown debate the role of intangibles well essentially we have seen so far that when we talk about productivity slowdown there has been mainly a slowdown in investment and in many countries as has been said since the beginning of this morning the slowdown involved the TFP so it has been a slowdown of TFP mainly so the simple question that we can ask is what might cause this slowdown and there is a wide literature discussing about what really is causing that starting from the artificial intelligence role the issue and so on and so forth the question that we try to answer is can an intangible approach be of help in this respect and the idea is well yes there are different possibilities when you adopt this type of approach on 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 one side you have that if intangible capital has some spillovers then if you have an investment slowdown then you have that part of the TFP growth slowdown can be explained by this type of dynamics if on the other hand you have a portion of investment that are complementary to intangibles that are not measured like you know those that I mean you have said before but you have machine learning and you have a lot of complementary activities that might play a role in this respect then we might have really data driven type innovation curve as has been defined by Blinjelsson and Cyberson that can explain part of the slowdown now let's try to figure out how relevant these intangibles are if we take them into account with the available data that are essentially generated by independent type of projects originally financed by the European commission but for example for what concerns the business sector this intangible invest website where you can find intangible estimates coherent with national accounts but this is not an official type of measure so if you look at intangible shares of GDP and you make a comparison of tangible and intangible looking at the data country by country and with an update up to 2015 where you have the blue bars representing the tangible traditional type of assets and the red bars the intangibles what you can see is that if you take the average over 1999 2015 in some of the most advanced countries in Europe you have that the intangible shares now is rather bigger than something really to seriously think about it because obviously this implies that the picture of the drivers of growth can be different if we then do another type of exercise and we look at the dynamics of these assets making a very simple comparison always between the tangible and intangible investment always because remember that the idea is that we had the problem of investment slow down that affected the productivity itself so if we do this exercise and in this chart what you can see is simply the dynamic of the share of intangible adjusted GDP share for the EU 11 and for the US the blue lines represent the intangible shares while the red lines the tangible shares as you can see we have a completely different dynamic first of all between Europe and the US so this might be of help if we are in the perspective of explaining the rate of the growth differential between the EU and the US in terms of productivity which is part of the debate that is going on where the idea is that as you can see in the US the intangible share now is definitely above I mean there is a divergence between the tangible and intangible assets in Europe the divergence I mean is not really the same but you have that however the tangibles are definitely slowing down and not recovering very fast now if you then use this data to develop a very simple growth accounting exercise just to figure out what happened in the EU and in the US before and after the financial crisis excluding the years of the financial crisis just to figuring out what is the role of the TFP and what is the role of intangibles in this respect well from this chart you have in the upper part of the panel you have 1999 07 rate of growth and contributions to growth in the EU and in the US just notice that the contribution from intangibles is the orange bar in both sides and the TFP is the gray bar so we had before the crisis essentially that in Europe we had the growth was driven by a combination of the different type of capital assets plus a big contribution of TFP more or less the same but with different sizes in the US if you do the same exercise for the years 2012 2015 you observe immediately that we had a significant decline both in TFP and in the contribution of intangibles in the European area and while in the US you still have a TFP that is let's say more positive compared to the intangible contribution the reason why I'm underlining this is because if you think about the possible relationship that can be between the intangible capital and the rate of growth of TFP you can discover that there is a positive and strong correlation and if you make a comparison like the one represented in this chart where you have the open diamonds representing essentially the relationship between TFP growth and intangible capital service growth before the crisis and then you do the same for the years 2012 2015 and these are represented by the red closed circles well what this chart tells you is that the correlation is there and it is positive but then what the other important message from this chart is that if you have an intangible slowdown that has been quite significant between these two periods it amounts around 1.7% of the rate of growth of total intangibles for all the countries together you could in principle account for more or less 30% of the TFP slowdown now just summing up what these results the results that I have shown that as I said I mean are taken from different type of work we have seen that essentially if you run sources of growth analysis what you discover is something that is now widely accepted in the literature but it is always there and it is that intangible capital is an important driver of growth in all the advanced economies so if we think about the possibility of extending the national account asset boundaries to the list of assets this would be of help in explaining the sources of growth differently and very briefly there are a lot of future challenges when we follow this literature first of all some of the intangibles can be defined as pretty exotic in the sense that they do not really have physical form so making the evaluation of them can be rather difficult to identify the depreciation rate for these assets and so on and so forward but we know that this can be something that can make the process of integration of these assets into the national accounts quite slow and then just two couple of points the other thing is that it would be crucial to evaluate international flows of intangibles and this is very challenging and the presentation made by Nadia is something very important in this respect because a big part of the flow of this investment is between multinationals or within multinationals and the very last thing is if we really would like to focus on intangibles we have to think about that with a long-term perspective essentially because we need a big policy commitment to really do this type of measurement effort that would require of course a big commitment also from Eurostat and the EU institutions thank you thank you thank you very much I will have a comment from because it's now just a comment I'm sorry I'm sure this is your last comment because the last presentation is totally different we shall see we like this work very much and support it and of course it's important that we have a better appreciation of the value of these intangibles but there is perhaps a caveat emptor in this story I spoke to Jonathan and Carol many years ago when they first put this together and I tried to impress upon them the importance of making sure that there is consistency in the growth accounting framework and one of the things that's forgotten I guess in this analysis and including their early analysis is that the producer of the asset and the where the asset is recorded it's not necessarily the country where the asset generates value and so when we start including these new types of assets in the production boundary we're also implicitly changing the concept of GDP and we're including it as GNI and I'll give you an example just to make it very clear if we look at the brand of Coca-Cola we're going to be measuring the Coca-Cola brand value in the US but the actual contribution to value added is taking place in different countries so the growth accounting framework applied like this can create distortions in the system now the way to overcome that is by making sure that you can either partition the asset recorded for example brand in the countries where it's being used or the income flows generated by the use of the asset in a certain country reduce GDP in the country where it's not owned and increase GDP in the country where it is so that's not to say that you know everything is wrong but it is to say that we have to be careful about the conclusions we draw at this stage because there is an implicit inconsistency in the owner of the assets and the user of the assets in the current framework that CHS have put together one second then we can talk later well I agree and we are aware about that but as you know the first effort that has been done until now has been to try to measure these assets inside the domestic economy with all the biases and limits that it has this approach we know that we need I mean as a first thing is exactly what I have mentioned in my last point I mean we have to take into account about the international flows are intangibles so the international dimension will make probably a big difference so I just completely agree ok grazie grazie molte a questo punto arriviamo all'ultima presentazione professoressa romano professoressa della scuola superiore sant'anna di pisa che ci porta in tutt'altro mondo che è quello del diciamo della misurazione dell'illegale che naturalmente è un mondo però che dico due parole perché penso che è bene chiarire un attimo il passaggio come sapete nei conti nazionali da qualche anno abbiamo cominciato a misurare anche alcune parti dell'economia illegale in particolare parti molto ben definite commercio di droga prostituzione contrabbando si sta sempre più discutendo sull'inclusione anche di altre tipologie di comportamento e di attività illegali la professoressa ci racconterà una specifico modo di provare a misurare naturalmente tutto l'illegale è sempre qualcosa di estremamente difficile da misurare perché se è illegale non vuole farsi misurare e quindi si aprono problemi di misurazioni particolarmente importanti e quindi in quest'ultima presentazione abbiamo questo specifico aspetto prego grazie deve schiacciare penso quello non ho il microfono esattamente allora come già introdotto dal dottor Aneto è un approccio questo un po' che abbiamo almeno che chiamiamo noi innovativo ma speriamolo sia davvero ovvero partendo dalla considerazione che qualunque attività illegale può essere esercitata da imprese o coinvolge imprese e anche specialmente quando si parla di appalti o di corruzione o turbativa d'asta eccetera le ditte che partecipano e che vengono poi censite a qualunque tipo di appalto che abbia come delle contropartite degli enti pubblici ha una sua banca dati che è l'ANAC il nostro interesse era quello invece di riuscire ad avere un'altra fonte per poter poi dopo eventualmente integrare con quelli che sono l'intera serie di appalti ma prendere diciamo le imprese che sono inserite nei testi delle sentenze della magistratura ovvero quando sono state processate persone per atti che in qualche modo possono avere a che fare con turbativa d'asta appalti con cussione o corruzione quindi abbiamo fatto questa prima prova il volume è una ricerca diretta da Guido Rei in cui ho scritto un capitolo dalle parole ai numeri e abbiamo cercato di utilizzare degli strumenti di analisi testuale di text mining per tirar fuori dei dati economici dalle sentenze l'obiettivo abbiamo continuato a lavorarci dopo questi primi risultati per vedere che è effettivamente possibile riuscire a estrarre con queste informazioni ma avevamo bisogno di fare un passo avanti valutare la completezza e l'attendibilità dei dati e riuscire ad avere poi delle integrazioni con altre basi di dati che rappresentavano un po' diciamo l'universo comunque di quello che gli aspetti economici delle imprese inserite dentro alle sentenze della magistratura quindi in questa sede adesso adesso presento una parte della continuazione di questa ricerca ovvero sia i primissimi risultati che stiamo ottenendo dall'integrazione dei dati estratti dalle sentenze della Corte di Cassazione con la Banca Dati Orbis che è stata appena acquisita dalla Scuola Sant'Anna all'interno del Dipartimento di Eccellenza con i fondi e un mese che abbiamo a disposizione questa Banca Dati quindi chiedo scusa per ancora i pochi risultati e per la possibilità di poter presentare poche informazioni però mi sembrano comunque interessanti anziché lavorare su tutto l'archivio che era stato adoperato per per il volume di 4632 sentenze e abbiamo preso solo quelle relative a un anno e quelle che comunque contenevano nelle parole riferimenti a persone per un ruolo professionale diciamo tenute nella pubblica amministrazione il sono 308 in totale non riesco brevemente riassumo quello che abbiamo come è stato fatto estratte le informazioni dal testo delle sentenze è stato utilizzato il package TALTAC 2 dell'università della sapienza del professor Bolasco che credo sia acquisito anche dall'Istat con cui ci sono state fatte anche altre elaborazioni è stato creato un corpus un vocabolario è stato fatto un tagging grammaticale semantico identificate parole frasi o segmenti che potevano essere utili per la nostra ulteriore per processare diciamo le informazioni estrarle e poi la fase vera e propria di text mining in cui abbiamo siamo riusciti ad esportare a isolare i nomi e la ragione sociale e a volte l'una e l'altra di circa 400 aziende o imprese lo schema informativo è essenziale in questo caso perché utilizzando una fonte di dati quanto mai non mirata ovviamente alla raccolta di dati statistici ma solamente a fornire risultati di sanzioni o meno rispetto ad eventi criminosi è importante capire diciamo il flusso informativo che abbiamo cercato di isolare ovvero sia l'evento criminoso è alla base coinvolge delle persone ma la sentenza il riquadro diciamo con cui è messo intorno alle persone è proprio questo cioè noi le sentenze sono rivolte verso persone fisiche mentre invece cerchiamo all'interno dei riferimenti ad attività economiche gestite magari da queste persone fisiche oppure dove le attività economiche hanno portato dei danni oppure le persone hanno comportato dei danni per queste attività e ovviamente le persone fanno capo o ad associazioni criminali o ad enti pubblici o anche ad aziende quindi può essere un amministratore delegato un titolare un socio un funzionario un dirigente e così via e ovviamente tutto questo all'interno abbiamo una descrizione nella sentenza dell'evento che ha portato dato luogo a questa sentenza stessa e a volte vengono riportati dei valori economici proprio in euro lo scambio di denaro magari in una corruzione che c'è stata che coinvolge chi verso chi sappiamo anche riconoscere i luoghi il periodo e ovviamente anche la sanzione che ne ha dato luogo questo va tenuto presente nel merging diciamo nel matching delle informazioni di queste sentenze delle imprese che siamo riusciti a isolare localizzandole anche per area geografica e per valore economico abbiamo cominciato a pensare alle linee guida in qualche modo che dovevano essere seguite per estrarre e agganciare queste informazioni e completarle attraverso la base data Orbis ovviamente doveva essere tutto fatto in modo automatico non era pensabile perché noi abbiamo fatto un esempio molto ridotto proprio per poter velocizzare anche forme di controllo della procedura ma ovviamente pensiamo immediatamente diciamo in tempi brevi di allargare le nostre estrazioni quindi non si poteva pensare di avere degli aggiustamenti manuali o quant'altro e comunque troviamo di fronte anche al fatto che dentro Orbis ci sono molte informazioni a livello individuale e ovviamente questo potrebbe sembrerebbe portare dei problemi di privacy ma dal momento che tutta l'operazione viene fatta in maniera automatica e poi viene trattata comunque in maniera assolutamente anonima abbiamo utilizzato una batch search quindi in forma automatica sottoponendo un file di imprese che avevamo estratto con Taltac dalle sentenze ma abbiamo anche provato perché questo può essere un vantaggio rispetto anche ad altre basi dati abbiamo fatto dei tentativi in precedenza anche con il database AIDA con la dottoressa Baldassarini e stiamo portandola avanti abbiamo preso gli imputati che sono persone fisiche ma sono negli open data sono scritti in chiaro li abbiamo immessi per cercare di individuare delle ulteriori ditte individuali o altre cose che potevano cioè al di là della loro persona fisica come risultato abbiamo ottenuto da 400 compagnie sono state immediatamente riconosciute fra virgolette e 228 con un punteggio che Orbis assegna come eccellente ovvero sia c'è nel processo automatico questo è il flag che mette la Orbis stesso produce un punteggio diciamo di qualità dell'accoppiamento dell'individuazione e noi ne abbiamo trovate 228 con un punteggio considerato eccellente quindi il 95% dei caratteri o delle informazioni erano uguali e in realtà queste 228 matching si sono ridotti poi a 186 imprese uniche perché va tenuto presente che in molte sentenze possono esserci più citata la stessa azienda in più sentenze e questo è oltretutto un fatto abbastanza interessante come fonte di informazione ma c'è anche un aspetto negativo il fatto che i giudici non scrivono per gli statistici ma scrivono in maniera abbastanza libera e quindi non sempre c'è un nome esattamente uguale a quello con cui l'impresa è codificata nella camera di commercio o da Cervedo o quant'altro quindi si tratta di fare a volte ci sono delle incompletezze e comunque si riesce circa una metà ad agganciarla per quanto riguarda invece il merging che abbiamo fatto attraverso i nomi degli imputati avevamo a disposizione la data di nascita proprio perché la sentenza comunque ha una sua struttura l'imputato viene sempre riconosciuto con un nato a il e quindi abbiamo automaticamente recuperato la data di nascita e ricostruito il codice fiscale che era presente o parte del codice fiscale per meglio dire che era presente nella banca nella in Orbis e quindi abbiamo in questo modo siamo riusciti a individuare ulteriori 16 ditte individuali e altre 6 ditte individuali ma agganciate attraverso un localizzazione attraverso il numero di partita IVA qual è il contributo beh contributo se noi riuscissimo perfezionando e facendo ulteriori miglioramenti diciamo all'estrazione è il fatto che attraverso Orbis noi abbiamo lo status cioè dell'impresa una dimensione aziendale una classificazione statistica attendibile del ramo di attività l'anno di partenza l'anno di diciamo di nascita dell'impresa dati di bilancio e quant'altro e quindi tutto questo per almeno 10 anni parlando con i gestori di Orbis sappiamo anche che questo periodo temporale può essere esteso a richiesta vengono fatte poi quello che è visualizzabile direttamente e in maniera autonoma sono 10 anni massimo ovviamente e i dati sono aggiornati viene indicato il contributo diciamo dell'analisi dei testi delle sentenze della magistratura non è però limitato solo a quello del text mining abbiamo cercato di affrontare in maniera con una classificazione automatica non di trovare una clasterizzazione di queste 308 sentenze utilizzando le circa 10.000 forme grafiche con frequenza maggiore di 5 e analizzata con spade il risultato è visualizzabile qui nella in questo nella figura e abbiamo trovato due grossi gruppi il cluster 1 e il 2 ma altri composti più o meno da 117 177 sentenze ma sono interessanti anche gli altri il cluster 4 che praticamente porta un'identità di 6 solo 6 sentenze ma riguardano lo stesso evento criminoso ma è splittata diciamo la sentenza in 6 parti perché è stata fatta il ricorso separatamente quindi si tratta di ricostruire molto cioè le sentenze sono interessanti ma poi quello che davvero bisognerebbe andare a cogliere è l'evento proprio che c'è dietro questo cluster per interpretarlo qui abbiamo riportato solamente le prime 11 parole che caratterizzavano di più i due cluster diciamo che aggregavano e nel primo che è di minore numerosità ma qui ovviamente non è un campione né rappresentativo né altro quindi non parliamo assolutamente di questo però 119 sentenze sono molto vicine perché citano molto queste parole cosca associazione mafiosa associazione sodalizio nome 1 vuol dire che c'è un nome di una persona di un individuo citato espressamente ora per problemi di privacy ho abbreviato con conversazione estorsione dranghe taclan eccetera eccetera nel secondo cluster invece troviamo più i riferimenti a quelli che sono ruoli nella pubblica amministrazione pubblico ufficiale cp che è codice penale l'abbreviazione che viene usata molto spesso e probabilmente si trattano di episodi di concussione e corruzione ma che non hanno la presenza contemporanea di organizzazioni di criminalità organizzate l'emergere della partecipazione di organizzazioni criminali è stata una sorpresa fra virgolette per noi perché non eravamo partiti a selezionare le sentenze che contenevano esattamente questi termini ma si sono autoimposti qui anzi per queste 308 è più ridotto nel volume trovate altro qual è l'interesse è che avendo la possibilità di aggregare di trattare le sentenze sulla base del loro contenuto semantico diciamo della presenza più o meno ripetuta di certi termini possiamo annotarle avere una loro classificazione che può essere utile una volta che esportando i dati e facendo il matching con altre basi dati di tipo amministrativo in questo caso con Orbis possiamo rispondere a interrogativi di questo genere cioè le ditte che sono presenti nelle sentenze quindi che erano in corso diciamo in qualche modo nelle maglie della magistratura si differenziano da quelle che non sono presenti con Orbis noi possiamo fare interrogazioni sullo stesso settore disciplinare per aziende della stessa dimensione aziendale o altro e quindi riuscire a vedere quanta parte queste sono e se c'è una differenza si possono fare anche dei modelli statistici per cercare di capire quali caratteristiche potevano avere queste aziende o se ci sono sono descrivibili attribuibili in qualche modo delle propensioni a trovarsi in queste condizioni ci sono la localizzazione geografica ma qui possono esserci problemi da quanto ho imparato dalle precedenti presentazioni e giusto qualche numero codificando diciamo i due cluster cioè facendo vedere il numero di sentenze e il numero di imprese tratte da quelle sentenze organizzate per regione citata in almeno all'interno della stessa sentenza vediamo che per il primo cluster che è quello in cui ci sono sia reati che la presenza di organizzazioni criminali sono meno diffuse su tutto il territorio nazionale ma non limitato solo al meridione e ripeto non è un campione rappresentativo però l'altro cluster che riguarda diciamo la corruzione indipendente da forme di organizzazioni criminali è veramente diffusa su tutto quanto la differenza diciamo nella localizzazione nella capacità di localizzarlo mi sembra abbastanza interessante lo stesso possiamo valutare anche sono dati ovviamente del tutto provvisori ma attraverso l'estrazione da Orbis possiamo avere una classificazione delle imprese per forma legale nazionale cioè valida per l'Italia in questo caso e dove a questo vanno aggiunto come indicato dopo altre 22 persone cioè ditte individuali che sono anche questo va messo in relazione con altri ma un'altra cosa interessante è anche il fatto di poter valutare lo status ovviamente a livello in quanto il momento in cui abbiamo fatto l'interrogazione quante sono ancora attive e quante hanno problemi in termini di o si sono diciamo dissolte sono cessate o in liquidazione e ad altro e questo è abbastanza interessante vedere che ci sono una separazione in questo caso fatta per circoscrizione fa vedere un certo bilanciamento tra attive e non attive e interessante capire anche che c'è uno stato sconosciuto cioè attraverso la banca dati di Orbi ci sono quattro cioè scusate sei imprese di cui non è possibile accertare lo status qual è il secondo me riuscire a mettere insieme le informazioni e i dati più possibile precisi che vengono anche da testi così virgolette poco statistici come sono le sentenze della magistratura ma poterle agganciare ad altri archivi amministrativi o di commerciali come Orbis può portare dei grandi dei buoni risultati ovviamente per poterli usare bisogna tener conto di quella che è la completezza dell'informazione perché noi abbiamo delle imprese che sono citate diciamo all'interno della magistratura possono essere citate sia come parte offesa che come invece parte che ha creato dei danni ha creato problemi di corruzione o quant'altro e poi problemi che riguardano il ricostruire il tempo in cui gli avvenimenti sono accaduti è ovvio che la sentenza noi abbiamo analizzato solo quelle della Corte di Cassazione perché sono allo stato terminale quindi avevamo il numero maggiore di informazioni in chiaro abbiamo provato anche a fare delle estrazioni dalle banche dati degli URE che riportano anche sentenze di merito ma del primo grado di giudizio erano effettivamente molto più ricche di informazioni proprio dei fatti più che a noi interessava diciamo la conclusione ultima del processo ed erano anche più vicini al momento in cui si è verificato l'evento criminoso al momento della loro della pubblicizzazione ecco di queste informazioni però ponevano grossi problemi che erano un sotto insieme non si capiva bene sicuramente viziato o distorto da informazioni mentre queste invece sono tutte le le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione quello a cui vorremmo arrivare sperando di poter continuare a lavorare su questo merging dei database è quello di ricostruire un possibile database tipo statistico ovvero sia ricostruire le informazioni e poter fare analisi in cui vengano il sia certo come dire il ruolo di ognuno degli atti rispetto all'acquanto fatto e in un continuo diciamo riutilizzare tecniche di text manual e analisi testuale per validare e integrate con quelli che sono i risultati di basi dati amministrativi quanto più è completa ovviamente è affidabile sono gli altri database tanto più questa informazione può andare fatta ringrazio tutti quanto a vario titolo e molti a titolo volontario che hanno lavorato a questo progetto grazie 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 penso che a questo punto però ci abbiamo una domanda facciamo una domanda ad un'altra persona sono uno statistico non mi intendo di giustizia però in effetti molto interessante la presentazione devo dire anche se sollecito a me parecchie domande innanzitutto mi rendo conto che appunto in Cassazione arriveranno probabilmente una percentuale talmente bassa perché di cause che sono appunto quelle che chiedono un giudizio nel merito o nel rito ma non nella legittimità o quant'altro e sono invece tantissime quelle che magari si definiscono nel primo grado di giudizio quindi in tribunale non necessariamente poi arrivano in appello o comunque anche se arrivano diciamo che sicuramente l'universo è più rappresentativo lei ha detto che effettivamente insomma mi rendo conto che è complicato andare a fare un'analisi dettagliata nel merito però è sicuramente quello più rappresentativo che potrebbe dare una fotografia quindi più vicina a quello che è l'illegalità o quantomeno le caratteristiche proprio delle imprese che commettono reato e quindi mi chiedevo anche perché se non sbaglio la giustizia dovrebbe avere un data veraus in cui diciamo le sentenze vengono anzi prima di diventare sentenze le minute quindi vengono iscritti al ruolo e di conseguenza poi a fine giudizio tramite l'emissione appunto della pubblicazione della sentenza insomma si riesce a definire quindi anche per esempio utilizzare il data veraus della giustizia che potrebbe in un certo qual modo evitare quello che è diciamo l'aggravio di uno studio testuale delle sentenze e forse anche più preciso perché nel momento in cui viene messa una sentenza quindi nel PQM c'è proprio il riferimento alla tipologia di reato per cui appunto l'impresa viene o insomma il soggetto viene condannato e quindi si riesce proprio a già da lì a individuare dei cluster che consentono appunto di estrapolare o quantomeno di fotografare le diverse tipologie e quindi questa sicuramente era una non so se domanda osservazione insomma e poi ecco mi chiedevo certo questo però è l'illegale colto quindi c'è tutto poi un aspetto un mondo illegale che chiaramente come ha detto lei non è possibile ma anche volendo cioè cercando di diciamo acquisirlo non si saprà mai quanta parte perché non si ha un dato finale con cui raffrontarlo e poter dire sì in effetti è quello o meno invece sarebbe interessante per esempio confrontare quindi su tutto l'universo delle aziende e quindi vedere quant'è la quota quindi questo per esempio mancava quindi mi chiedevo effettivamente quello che è stato riportato e quindi rappresentato rappresenta il 2% il 5% insomma quello che sia e anche per riuscire a capire in piccola parte quanto appunto dell'intero universo poi certo sarebbe bellino insomma farlo anche per ogni grado di giudizio insomma quanto ricorre a comportamenti illegali e quindi poi capire il perché quindi poi certo c'è tutto una dovremmo chiudere no una rapida replica sono sono perfettamente d'accordo sono sono tutte riflessioni che abbiamo fatto perché abbiamo trovato un numero di sentenze che su mi sembra 150.000 erano solo 4.000 erano abbastanza poche che contenevano quelle parole e ce ne siamo spiegati con il fatto di non arrivare non tutti i procedimenti poi arrivano al terzo grado di giudizio quindi chiaramente però quello era una prova che volevamo fare per riuscire a capire allora il data warehouse della magistratura non sempre è così facilmente accessibile nel senso che andare lì a chiedere non non siamo ancora riusciti ad averlo ad avere contatti sufficienti o bisogna che dal ministero di grazia giustizia e poi ne esistono alcuni che sono parcellizzati per regione però i tribunali ancora peggio utilizzano sistemi diversi forse uno dei problemi sarebbe proprio il sistema informativo della giustizia cioè se potessimo il fatto di accedere di poter accedere alle sentenze del primo grado ma anche addirittura a quelle nelle indagini preliminari dove ci sono dentro anche le intercettazioni fra e vengono citate cose io l'ho provato a farlo ma attraverso la banca dati dei jure che però mette spesso sostituisce i nomi con le iniziali puntate e questo ci crea abbastanza problemi perché togliendo il punto come elemento di separazione non prendiamo più i punti che delimitano il nome di molte aziende cioè è un problema proprio di riconoscibilità non per SRL o SPA che sappiamo dire ma se una società si chiama V.A. punto e se io tolgo il punto come faccio a identificarla non sempre poi il il giudice la cita nella stessa maniera quindi non è così banale da un'analisi testuale bisogna sempre passare perché io ho trovato perché avevamo appunto delle sovrapposizioni che cambiavano SRL o SPA siamo andati a guardare nella sentenza lo stesso giudice la chiamava a volte SRL a volte SPA ma ne parliamo quando poi c'è cooperativa o altre forme cioè viene ci sono mille modi di citare come dire e il sicuramente uno degli scopi in realtà sarebbe quello prendere per esempio e fare questo confronto andando a ritroso con quelli che sono i dati gestiti dentro la banca dati dell'ANAC perché lì almeno gli appalti che sono che riguardano antipubblici sono fatti da imprese vinti da imprese sono le imprese che hanno partecipato e seguire poi dopo quante di queste sono andate a finire e che motivo ci poteva essere perché se si riesce a trovare come dire delle dimensioni che spiegano il fatto che alcune siano andate a finire in provvedimenti della magistratura oppure no è un problema di privacy se a me le dessero domani guardi sarei felicissima a farlo sul primo livello e però in chiaro non con limitazioni che poi inficerebbero la validità dei risultati però l'obiettivo finale è proprio quello di dire ma quanta parte è dell'universo delle ditte perlomeno di manifattura di un certo tipo o altro noi abbiamo trovato tante erano ditte per preparazione di pasti per le menze scolastiche in tutto il territorio nazionale vediamo io ne ho trovate qualcuna uno potrebbe prendere da Orbi su tutte quelle che hanno una stessa classificazione e nace e vedere se si ritrovano a ritroso c'è una specie di mettendo insieme però più fonti secondo me qualcosa in più si riesce a dire almeno a fare delle stime grazie grazie a questo punto dobbiamo assolutamente chiudere grazie per tutti i contributi e tutte le informazioni che ci siamo scambiati ciao grazie a tutti